buongiorno amiche oggi non riesco a condividere il video del tutorial del maglione d'uomo che sto facendo sto terminando una manica me ne manca ancora una e lo scollo vi faccio solo vedere anticipandovi un po il tipo di lavorazione e più o meno i colori ci aggiorniamo spero di riuscire lunedì perché purtroppo causa rottura della lavastoviglie un po di cose da fare in casa non sono riuscita a rispettare il nostro termine comunque lunedì dovrebbe essere terminato e iniziamo a partire da questo tutorial anche a darvi qualche idea proprio prettamente magari più idonea per fare i regali di natale un abbraccio a tutto e grazie per la pazienza e ci risentiamo lunedì